Ehi Bobby, suona quella musica di quando cadi dalle scale. Certo Johnny! La adoro! Come è romantico qui! Sì, siamo solo io, te e la luna. Ehi, dovreste baciarvi! Signore, lei è affetto da una forma maligna di... voce da neonato. Ciao piccola tartaruga anti-uomo! Ciao! Ehi amico, hai voglia di giocare? No, mi prendi sempre a colpi con i controller. Ah, è così, bell'amico che sei! Oh, ok. Ehi, 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 smettila di tirare muffin! Ah no, perché io lavoro nella fabbrica dei muffin! Mi chiedo se il mio pony possa volare. Oh! E adesso, papere. Stavo per dire la stessa cosa. Oh, davvero? Certamente! Incredibile! Siamo proprio in sintonia! Mamma, guarda, una tartaruga! Ciao! Tieni questo! Ti prenderò a pugni in faccia! Questa è la giornata dei contrari. Oh no! Oh no, io non ti calpesterò! Ciao! Tu non ti stanchi di essere così normale? Beh, nemmeno io! Ciao!